Ben ritrovato a Baby Pillon, a Pescara che ha costruito meno palle-gole di tutto il campionato, questo è un dato di fatto, contro questa Cremonese a un certo punto era anche importante non perdere, il Pescaro c'è riuscito. Sì, ha detto bene, nel senso che quando non si riesce a vincere non si deve perdere, perciò diamo continuità dei risultati, che è l'aspetto più importante, dopo due vittorie e un pareggio, fai sette punti, tre partite, va benissimo. È chiaro che abbiamo avuto delle difficoltà anche grazie a loro, perché loro si sono chiusi molto bene, non ti lasciavano spazio, non ti lasciavano profondità, è stata una partita molto difficile da affrontare e se aveva il timore magari che in qualche ripartenza ci potessero far male, però la squadra è sempre stata quadrata, equilibrata e questo è un aspetto importante. Partiamo da quello che è il tormentone di noi giornalisti in questa serata, la scelta di Maschin esterno-alto. A Sebastiani è piaciuto molto, Maschin lo ha detto ai nostri microfoni, i giornalisti lo hanno un po' criticato, l'opinione di Pilon qual è? La mia opinione è questa, che ho dovuto fare questa scelta perché Antonucci ha avuto un problema fisico, non è dalla partita, Capone è chiaramente rientrato da poco, non c'è minutaggio e lo volevo fresco per gli ultimi 30 minuti perché di più non ce n'è in questo momento, perciò ho fatto una scelta, almeno peggio diciamo, nel senso che ho messo Maschin, ho sacrificato lui in quel ruolo che non è suo e lui ha fatto quello che poteva fare perché non volevo cambiare l'assetto di squadra, non volevo cambiare posizione di giocatori che fino adesso hanno fatto molto bene. Marras di là, Del Sole all'altro lato, non voleva proprio cambiare concetto? Del Sole l'ho provato a far giocare anche a sinistra ma non mi era piaciuto, a sinistra perciò io credo che tutti e due, sia Del Sole che Marras, sono molto forti dal lato con il piede opposto, nel senso che quando rientro non vengono dentro, quando li metti di qua li snaturi un po' e fai un po' più fatica. Io prometto che faccio una sola domanda di mercato, però magari mi può rispondere Pilon, arriverà questo attaccante centrale forte, ha chiesto il centrocampista di interdizione dopo che è partito Palazzi, non dico altro? No, io non ho chiesto centrocampisti, è chiaro che è andato via Cocco, arriverà un attaccante, questo sì, adesso vediamo chi arriverà, vediamo la società, stanno lavorando su questo, ho molta fiducia in loro, adesso vediamo che attaccante arriverà. L'ultima da parte mia è su Scognamiglio, l'ha detto lei in conferenza ieri, sta giocando molto bene, però adesso è pronto Ugo Campagnaro, si rimescono le gerarchie, Campagnaro se sta bene non si discute, qual è la sua idea? La mia idea è che si lavora durante le settimane e poi scelgo.